Definito il quadro degli eletti in Consiglio regionale, oggi con la seduta ufficiale in Corte d'Appello. 29 consiglieri eletti, 17 per la maggioranza e 12 per l'opposizione, senza sorprese questa volta, perché gli scostamenti tra l'esito delle urne e le varie verifiche eseguite dalle commissioni provinciali non sono significativi. Per il centrodestra questi gli eletti, il presidente Marco Marsiglio ovviamente, per Fratelli d'Italia, Paolo Gatti, Leonardo D'Addazio, Luca De Rensis, Umberto D'Annuntis, Nicola Campitelli, Mario Quaglieri, Tiziana Magnacca, Massimo Verrecchia. Per Forza Italia, Lorenzo Sospiri, Emiliano Di Matteo, Daniele Damario, Roberto Sant'Angelo. Per la Lega, Emanuele Imprudente e Vincenzo D'Incecco. Per la lista, Marsiglio presidente, Luciano Marinuccio e Gianpaolo Lugini. Per noi moderati, Marianna Scoccia. Tra le file dell'opposizione, eletti per il patto dell'Abruzzo, lo sfidante di Marsiglio è Luciano D'Amico. Per il PD, Antonio Blasioli, Antonio Di Marco, Sandro Mariani, Dino Pepe, Silvio Paolucci, Pierpaolo Petrucci, Erika Alessandrini e Francesco Taglieri per il Movimento 5 Stelle, Giovanni Cavallari e Vincenzo Menna per la Civica Abruzzo Insieme, Ennio Pavone con azione socialisti riformatori, Alessio Monaco con alleanza Verdi Sinistra. Due date per il primo consiglio regionale o l'8 aprile o il 16. In quella data verrà costituito l'ufficio di presidenza e verrà eletto il presidente con i vice segretari. I vice potrebbero essere Blasioli o La Scoccia. Ovviamente ci sono accordi che vengono presi prima e per la carica di presidente in omillizza sono Roberto Sant'Angelo e Lorenzo Sospiri, che però a quanto pare ambisce ad un posto d'assessore. Per quel che riguarda la giunta se ne riparla dopo Pasqua, ma è certo che Fratelli d'Italia vorrà fare la voce grande. L'ipotesi resta quella degli assessori Quaglieri, Magnacca e Paolo Gatti come prime scelte. Le seconde potrebbero essere Campitelli e Dannuntis, ma c'è da collocare De Renzis, potrebbe rientrare come assessore tecnico Nicoletta Verì. Forza Italia aspirerebbe a due assessorati, Sospiri e Damario, che potrebbe fare però il sottosegretario con presidente Sant'Angelo. Strategia della Lega è la stessa di Forza Italia. Niente nomi per ora, ma si attende il tavolo regionale per esplicitare il tutto.